258 e l'obrezzo è allargatissimo, attenzione agli attacchi, attenzione alla volata, sono allontano il palco. Ecco la volata come ci ha raccontato magnificamente, la radiocorsa dominata dall'atleta numero 277. Il numero 277 che ha vinto Chiastra, Chiastra Fabrizio dell'ultimo chilometro ha veramente dominato questa volata, questo sprint. Era all'inizio della corsa in fuga con Ferrari Davide, non ha lasciato perdere.